buongiorno buongiorno ragazzi giovedì se non sbaglio 8 aprile 2021 8 e 30 del mattino questa mattina meno uno però devo rullare devo rullare il campo che ho rifatto nei giorni scorsi quindi questa mattina prendo spunto da quello che vedo sul campo per andare a rispondere un bel quesito che mi è giunto dal nord italia precisamente dalla liguria e lo spunto è il seguente vedete quelle pozze e quei segni d'acqua che mi sono rimasti sul campo ok lì ci sono qua non ci sono lì ci sono qua non ci sono il video non l'ho ancora pubblicato e se l'ho pubblicato vi trovate il link qua sopra allora io ho rifatto il campo semplicemente all'interno dell'area di gioco e ho ripreso entrambe le battute per una profondità di due tre metri quindi il campo è stato tagliato in questo caso con una venus terra rossa maxi è stato spianato è stato aggiunto in uno sottomanto fatta prima rullata ed eccoci qua a bagnare quando io bagno questo campo questo campo è molto ricettivo anzi questa parte di campo è molto ricettiva nei confronti dell'acqua qua dove io non ho forcato e io non ho forcato da qua fino alla cordonata vedete che ci sono dei punti di ristagno ciò significa che la capillarità del sottomanto cioè la capacità dell'acqua di penetrare e di andare verso il basso è inferiore qua rispetto a qua per quale motivo qua è inferiore semplicemente perché intanto il campo qua è stabile seconda cosa è stato pressato anche nei mesi scorsi prima di fare i vari interventi quelle mie varie sperimentazioni e quindi mi ritrovo tecnicamente con una superficie dalla cordonata fino al corridoio stabile pressata mentre dal corridoio fino all'altro corridoio una superficie estremamente instabile ricettiva ok arriviamo al quesito di oggi il quesito è il seguente oh buongiorno mi faccio mi faccio l'auto quesito buongiorno a un campo con uno spessore di sottomanto più o meno di circa 20 centimetri il campo riesco a farlo giocare tranquillamente sempre comunque però appena piove il campo diventa inagibile e prima che io inizi a recuperare anzi prima che io riesco a rifarlo giocare mi passa troppo tempo quindi ipotizzo che i 20 centimetri di sottomanto siano responsabili di questa situazione come valutare la cosa che tipo di intervento che tipo di risoluzione si può mettere in atto allora proviamo a ragionarci insieme e nel mentre mi metto a favore di di sole allora 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 20 centimetri di sottomanto prendiamo in considerazione varie possibilità teoriche la prima considerazione è ok ho 20 centimetri di sottomanto potrei ipotizzare di andare a scalare il campo in modo tale da ritornare a 5 6 8 centimetri di di spessore che quello che da quello che ho visto da vari carotaggi o io sono di due campi precisamente su quello in fondo sul campo centrale vi ho fatto vedere sta cosa anche in un video che vi metto qua sopra quindi ipotizziamo di scalare il campo e cioè di togliere una dozzina di centimetri di sottomanto a quanto sottomanto equivalgono 12 centimetri di superficie di gioco i conti così a occhio a mente sono presto fatti fai conto che un bancale sono 80 sacchi e sono due tonnellate quindi 20 quintali per fare 4 centimetri non pressati di sottomanto più o meno mi servono 320 340 quintali di sottomanto quindi 4 8 12 falgo 12 centimetri me ne rimangono 8 che comunque sono tanti sono 100 tonnellate giusto 320 320 quintali 640 980 quindi togliere tutta quella terra lì tecnicamente a mio avviso non è fattibile perché comunque ho bisogno di qualcosa qualche macchinario che mi entri in campo ho bisogno di spendere soldi per lo smaltimento ho bisogno di rifare tutto il campo cioè una spesa che per quanto mi riguarda se ipotizzo che questo campo lo avessi io è una spesa che non posso sostenere quindi a questo punto passiamo al piano b piano b è il seguente cioè se io so che il campo normalmente gioca e il problema ce l'ho quando piove la prima cosa che io farei è intanto di andare a ispezionare il campo durante la pioggia e post pioggia cioè durante la pioggia vado a vedere i punti carenti del campo cioè i punti di ristagno che a questo punto posso ipotizzare siano anche lungo il perimetro del campo e nel post pioggia vado a verificare quali sono i punti del campo dove mi impantano anche semplicemente camminando quindi partiamo dal concetto appunto della planarità della superficie di gioco attenzione noi sappiamo che il campo in linea teorica dovrebbe avere una certa planarità e dovrebbe avere una certa pendenza la pendenza deve essere dal centro del campo verso l'esterno a conti fatti però per quanto riguarda il mondo del fai da te di noi comuni mortali quando andiamo a rifare il campo o quando cerchiamo di mantenere il campo nelle migliori condizioni possibili noi dobbiamo preoccuparci che l'area di gioco sia planare sia perfetta per far giocare nel modo migliore possibile dobbiamo preoccuparci che le battute non siano troppo basse perché poi c'è lo scalino della riga tutto quello che comporta la classica usura del campo quindi dobbiamo preoccuparci a rimpinguare ad aggiungere sottomanto bla 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 quindi sorvoliamo sul campo e sull'area di battuta tutto quello che viene dopo quindi da tre metri in poi e quello che accade dalla dalla fine del corridoio in poi è quello che a noi interessa cioè noi durante la manutenzione o post manutenzione quando ci troviamo questo problema di inizio stagione anzi sappiamo che c'era il problema e non vogliamo che ci riaccada durante la stagione è qua che dobbiamo intervenire cioè dobbiamo cercare di andare ad abbassare a scalare qb il sottomanto dalla cordonata fino verso il corridoio casomai utilizzando un arcat una venus terra rossa un r2 quello che volete dobbiamo andare a limare tot millimetri per fare in modo che se anche il campo è perfettamente piano e non ha nessun tipo di pendenza questa pendenza ci sia almeno dal corridoio verso l'esterno noi dobbiamo fare in modo che la pioggia quando cade e cade uniforme su tutta la superficie di gioco non ristagna all'interno del campo quindi l'unico modo per far sì che non ristagni e darle un invito verso l'esterno ovviamente una volta che l'acqua arriva all'esterno bisogna che ci siano delle vie di uscita di scarico dell'acqua quindi dei tagli sulla cordonata o se possibile aggiungere delle vere e proprie canalette all'interno che quelle si fanno veramente la differenza è soltanto per la cronaca vi faccio vedere la mia canaletta guardate che figo ragazzi guardate ghiaccio 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 ci sono tre gradi io devo rullare però c'è ancora ghiaccio infatti sto aspettando che l'ombra vada giù altrimenti non rullo per niente infatti qua mi sa che l'acqua anzi no mi sa guardate che figo l'acqua che ho buttato si è ghiacciata qua l'acqua si è ghiacciata pensate quanto freddo al campo e quanto inutile in questo momento sia rullare scusate la digressione ecco qua la canaletta canaletta interna che mi fa da via di fuga per l'acqua e lo scorso anno abbiamo aggiunto la stessa canaletta dall'altra parte prima ne avevamo una sola perché pensavamo fosse sufficiente in realtà ci siamo accorti che doppia canaletta doppia uscita una sul fondo di là e una sul fondo di qua ci permette di appunto dimezzare il tempo d'attesa dell'acqua all'interno del campo quindi il trucco è meno tempo l'acqua sta all'interno del campo e meglio è quindi riassumendo basilare è lavorare in modo consumo per avere questa pendenza verso all'uscita quindi cosa succede quando piove quando piove l'acqua cade incontra il sottomanto e il sottomanto in modo naturale ha una certa capillarità cioè ha una capacità normale di far penetrare l'acqua dal punto a che punto più alto fino verso il punto b non sappiamo fin dove arriva dipende dalla quantità d'acqua però dal punto di vista fisico l'acqua dall'alto va verso il basso va verso il basso fino a quando non accade che la superficie di gioco va in saturazione cioè su questo spessore x litri di acqua ci possono stare per metro quadrato o metro cubo scusatemi dipende se parliamo di profondità o se parliamo di aria di gioco tutta l'eccedenza ristagna sulla superficie di gioco ristagna sulla superficie di gioco se questa è una vasca da bagno però se io vado a fare la lavorazione che ho detto prima non ristagna o perlomeno ristagna molto meno molto meno quindi cosa succede che quando accade il fenomeno del ruscellamento superficiale cioè la superficie tecnicamente è satura e l'acqua galleggia sulla superficie di gioco e l'acqua cerca un punto d'uscita cioè l'acqua naturalmente va verso i punti più bassi se io sono furbo i punti più bassi li faccio in modo tale che siano solamente lungo il perimetro del campo li avrò l'accumulo dell'acqua che poi mi si scaricherà all'esterno della superficie di gioco adesso torniamo indietro anche di un passo e ritorniamo e ritorniamo ancora sul concetto della capillarità vi ho detto che l'acqua cade bene attraverso il basso nello spessore del sottomanto fino a quando questo si satura la saturazione del sottomanto non è uguale per tutti i campi cioè più il mio strato di sottomanto è pressato meno capillarità esiste e meno saturazione o cioè se ho meno capillarità ci sta meno acqua ci passa meno acqua e all'interno del sottomanto ci sta meno acqua cioè se ho meno capillarità l'acqua penetrerà più lentamente quindi mi fa in tempo ad andare via per l'uscielamento e penetrandone di meno comunque ne conserverà di meno ciò significa che il campo tecnicamente se io vado a calpestarlo sarà meno burroso meno impantanante rispetto a un campo dove la capillarità è esagerata come faccio io a limitare questa capillarità è quello che abbiamo visto all'inizio del video e quello che abbiamo intuito all'inizio del video cioè se io la superficie di gioco la rullo e per rullare intendo utilizzare un rullo meccanico motorizzato che abbia almeno un peso equivalente a 500 kg in su allora limito la capillarità presso il sottomanto limito la capillarità guadagno tempo sull'acqua piovana quindi campo pressato piove entra acqua qb tutto il resto ruscella ruscella verso l'esterno l'esterno scarica l'acqua e adesso entra in gioco l'operatore appena finisce di piovere dopo aver fatto un controllo a piedi all'interno del campo dopo aver visto se è fattibile entrare con il rullo passaggio di tappeto per muovere un po di grana libera per far sì che il cilindro non vada a rompere non vada a togliere parte del sottomanto perché può accadere una volta passato il tappeto spazzate le righe si entra con il rullo il cilindro sicuramente suderà tantissimo il sottomanto farà venire su farà venire su l'acqua il sole che sarà presente andrà da una parte asciugare il campo dall'altra parte andrà ad indurirlo quindi il classico concetto della passatemi il termini per questa volta della è sbagliato però della cementificazione cioè il sole va a cucinare fra virgolette a riscaldare il la componente argillosa presente all'interno del sottomanto questa si secca e va a compattare la superficie di gioco va a tenere ben compatta la superficie di gioco però ribadisco il termine giusto non è cementificazione il termine giusto è dire che va a compattare va a stabilizzare il campo ecco questo è quanto andiamo ritorniamo a questo punto ancora sul concetto dello spessore dei 20 centimetri quanto questi 20 centimetri influiscono su tutta questa lavorazione che io ho spiegato allora sicuramente influiscono è inutile far finta di nulla perché nel bene o nel male influiscono cioè io ho a che fare con una superficie di gioco che se fosse di 5 centimetri di spessore mi beve tutta acqua quando io vado ad innaffiare ad annaffiare nel quotidiano se ne ho 20 ed è molto capillare mi serve tanta più acqua per bagnare quindi il campo bevi in modo diverso questo è poco ma sicuro però se io imparo ad utilizzare il rullo spesso e volentieri dopo le piogge che vanno dal mese di aprile quindi dall'apertura adesso dipende anche da dove ci troviamo in italia però se da quando apriamo un campo all'aperto dopo ogni pioggia lo andiamo a spremere con il rullo e questo continuiamo a farlo fino a quando farà effettivamente caldo quindi quando ci saranno effettivamente quei 20 25 gradi e quindi il calore avrà cucinato avrà stabilizzato perfettamente la superficie di gioco allora io quando avrò la prima pioggia abbondante il primo temporale estivo vedrete che il sottomanto farà la sua parte e assorbirà molto meno acqua il campo farà la sua parte perché farà scalare l'acqua verso l'esterno le vie di fuga e la canaletta faranno la loro la loro parte scaricando l'acqua quindi la sommatoria di tutte queste situazioni mi dà come risultato un campo che potenzialmente passerà da tre giorni di inagibilità post pioggia a mezza giornata io vi posso dire che nel mio caso specifico questo campo era un campo che quando io rullavo con un rullo a mano il classico rullo da 150 kg 180 kg che tutti i circoli hanno durante l'estate se anche ci passavo dopo la pioggia prima di due tre giorni qua non si giocava cioè io potevo metterci tutto l'impegno che volevo rullare per largo per lungo 3 4 volte durante una mattinata anche nel pomeriggio eppure servivano due tre giorni prima che il sole facesse evaporare l'acqua prima che sottomanto si stabilizzarsi e ovviamente appena si andava a giocare i giocatori comunque mi facevano tutte le buchette le pecche tutto quello che non ci dovrebbe essere sul campo della rossa che comunque noi sappiamo bene noi manutentori dobbiamo conviverci con questa situazione chiudendo il discorso volevo anche porre l'accento su un fattore sul fattore meccanico del rullo e sul fattore fisico del sottomanto c'è un rullo che pesa 500 kg da una certa pressione che non è di 500 kg perché questa va scalata sulla larghezza dei cilindri ok quindi effettivamente sono 500 kg scalati sulla larghezza però se io ho uno spessore da 20 oppure cioè che io abbia uno spessore da 20 o che io abbia uno spessore da 8 quando io premo con il cilindro è solamente una parte marginale che si pressa cioè il rullo al suo passaggio va a comprimere adesso posso dire dei numeri a caso però è il concetto che conta al suo passaggio il rullo mi comprime la parte più superficiale del sottomanto cioè mi va a creare una sorta di stratino pressato dove la capillarità è ridotta il resto del sottomanto non è pressato cioè o è pressato in proporzione molto molto inferiore quindi che io abbia uno spessore da 20 o che io abbia uno spessore da 8 sempre una quota marginale di sottomanto sempre la stessa quota marginale di sottomanto è assoggettata a una modifica così drastica che mi dà il beneficio della riduzione della capillarità e cioè la riduzione della capacità penetrante dell'acqua sulla superficie di gioco questo secondo me va sottolineato perché nel caso di questo campo che ha uno spessore così ampio di 20 centimetri cioè non dobbiamo piangerci addosso e dire ok ho 20 centimetri non ne vengo fuori io invece andrei a sottolineare la formidabile capacità che invece ha il rullo di non guardare in faccia questa realtà ma di crearmi comunque questo questo strato questa barriera protettiva che è indipendente dallo spessore del sottomanto e questa barriera comunque mi rimane viva se continuo nel tempo a rullare se continuo nel tempo a rullare quindi piove ispezione tappeto rullo piove ispezione tappeto rullo far finta significa accettare di non modificare lo stato delle cose e quindi oggi il campo in agibi domani il campo sarà in agibi e dopo domani il campo sarà in agibi e fino a quando solamente il sole farà la sua parte nonostante il sole faccia la sua parte il campo comunque i giocatori me lo distruggono perché comunque la capillarità barra la porosità della superficie cioè dello strato di sottomanto sarà tale che è penetrabile anche dal calpestio delle scarpe o dalle scivolate troppo esagerate e quindi vai di campo quella brodo questo è quanto spero di non aver dimenticato nulla ma sicuramente mi sono dimenticato qualcosa se il circolo interessato anzi se qualcuno interessato ad avere qualche informazione in più su questa tematica me lo dica mi metta qualche commento vi ricordo che se avete delle domande fatele e casomai in un prossimo video andiamo a parlare invece di un campo dove il sottomanto ha uno spessore minimal cioè quei campi e ce ne sono a bizzeffe dove lo spessore di sottomanto è un centimetro un centimetro e mezzo quelle superfici di gioco lì come si comportano con la pioggia ne parliamo sul prossimo video signori un saluto grazie alla prossima ciao grazie a tutti